Non preoccupare, lo tengo io. Vai, vai, certo, come no? Anche se ci sono sempre le stesse fanno. Certo che lo voglio. Guarda qua, è uno spettacolo. Buon appetito. Buonasera, buon appetito. Buonasera, buon appetito. Pubblicità vuole? Come si chiama? Come si chiama? L'ho intervisto io? Davide. È single, ovviamente. Da stasera troverà qualsiasi, vedrà. Eh? Poi è da vedere se la vuole trovare o no. Giusto? Buon appetito. Buonasera. 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 Buonasera.